Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi presentiamo un interessante saggio dal titolo La ricchezza del debito pubblico, secoli XII-XI, appena pubblicato dal mulino e scritto da Angela Orlandi che noi abbiamo un grande piacere di avere il nostro ospite alla quale io lascio subito la parola che così scopriamo questo famoso e così abusato debito pubblico di cosa si tratta. Prego professoressa, a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente in primo luogo vorrei ringraziare Maurizio Calì e tutta l'Associazione Culturale d'Italia Medievale per avermi invitato a presentare questo mio lavoro che per me è un po' un ritorno alle origini perché la mia prima monografia riguardava la cosiddetta operazione Grand Parti che era un'operazione di consolidamento del debito pubblico francese che si realizzò appunto nella Francia di metà cinquecento quando sovrani erano Enrico II di Valois e Caterina De Medici, rappresentante di una famiglia che di denaro ne sapeva molto e che soprattutto ne conosceva il valore. Ebbene, ho deciso di riprendere il tema del debito pubblico e affrontarlo in questo volume che è diretto sia ad un pubblico specializzato ma che credo per la struttura che ha anche ad un pubblico più ampio. Un volume che ha essenzialmente tre finalità. La prima è ricondurre a sintesi in modo sufficientemente approfondito un tema complesso come quello del debito pubblico per un periodo di tempo molto lungo, dal dodicesimo al ventunesimo secolo. Mentre la seconda finalità è provare ad individuare quali sono state le prime forme di indebitamento dei governi che assunsero, come dire, delle caratteristiche simili a quelle del mondo attuale. E infine la terza finalità, che è poi quella principale, provare a vedere perché ci si indebitava e come si utilizzavano quei denari. In sostanza provare a distinguere il debito buono dal debito cattivo, una distinzione adottata da Mario Draghi quando era presidente della Banca Europea. Riguardo la prima finalità, come potete immaginare, gli studi sul debito pubblico sono numerosissimi. Si tratta di lavori che soprattutto ne ricostruiscono le forme, i valori, le modalità di funzionamento, di organizzazione e che, come dicevo, ho cercato di ricondurre a sintesi. Cominciando con l'esame dei debiti delle città-stato, dell'Italia centro-settentrionale, dell'Italia medievale come Venezia, Genova e Firenze, proseguendo con gli stati territoriali della nostra penisola, quindi dal Piemonte fino alla Sicilia, in un confronto con quello che accadeva altrove, con quello che accadeva nei nascenti stati nazionali come appunto l'Inghilterra, la Spagna e la Francia. E per concludere ho esaminato l'andamento del debito nell'intera penisola italiana a partire dall'unità, quindi dal 1861 ai tempi nostri. Quindi tanti secoli durante i quali di cose ne sono successe moltissime, per cui mi limito a ricordare soltanto qualche aspetto particolare. Comincerei con il primo esempio di richiesta organica di denaro da parte di un governo. Questa si verificò a Venezia con il cosiddetto imprestito, siamo nel 1171, ed è il primo caso di prestito forzoso, di prestito obbligatorio, che i veneziani dovevano sottoscrivere per somme più o meno proporzionali alla loro ricchezza. E doveva servire ad allestire la flotta contro l'imperatore Doniente, una guerra che poi paradossalmente non venne mai combattuta. Naturalmente l'esempio di Firenze fu rapidamente seguito da Genova, da Firenze, ma anche da altre città dell'Italia settentrionale come Bergamo, Treviso, Vicenza. E quindi che cosa facevano i governi? I governi emettevano titoli che rappresentavano il debito e che potevano liberamente circolare sul mercato. Erano certificati che alle scadenze stabilite garantivano la restituzione del capitale e la riscussione degli interessi. Gli interessi che a Venezia si chiamavano PRO e che invece a Genova e a Firenze si chiamavano PAGE. Naturalmente era fondamentale mantenere la fiducia dei creditori, raccogliere denaro senza la fiducia dei creditori era praticamente impossibile. E allora per far questo si cominciò a individuare gruppi di entrate comunali poste a garanzia del debito. E naturalmente si cominciarono a strutturare anche delle forme di ammortamento, quindi di restituzione e di annullamento dell'esposizione. Così come si era rapidamente affermata, l'esposizione finanziaria cominciò a crescere, tanto che la restituzione di capitali e di interessi divenne sempre più difficile. A partire dal Trecento la storia è disseminata da pesanti crisi di bilancio e da continue sospensioni o interruzioni dei rimborsi. Si arriva così al secondo momento nella storia del debito pubblico dei governi su cui appunto vorrei soffermarmi. Ed è il momento dei primi esempi di consolidamento del debito, dove per consolidamento si intende la cessazione dei rimborsi sulla quota prestata, limitandosi a pagare solo gli interessi. E questo primo esempio di consolidamento si verificò a Firenze negli anni Quaranta del Trecento. Tra il 1343 e il 1346 il governo fiorentino emise tre disposizioni legislative attraverso le quali arrivò a consolidare il debito. D'altra parte la situazione che Firenze stava vivendo dal punto di vista finanziario in quegli anni era diventata molto pesante. L'esposizione era cresciuta naturalmente per il finanziamento delle continue conflittualità ma anche per esigenze annonarie, cioè la necessità di rifornire la città di grano, ma anche per oneri di urbanizzazione. Quindi l'esposizione crebbe, crebbe tanto che il governo fu costretto a ridurre gli interessi e a consolidare i prestiti che erano appunto redimibili. Tutti i debiti vennero riuniti e annotati in un libro, detto Libro di Monte, perché da quel momento a Firenze il debito pubblico, il debito del governo, veniva identificato con l'espressione Monte, quindi un conglomerato di tutti i debiti che la città aveva fino a quel momento. La vicenda ebbe origini in diversi fattori, però forse il più importante fu dovuto al fallimento dei grandi banchieri che avevano fatto prestiti soprattutto alla corona inglese. La corona inglese che aveva sospeso i pagamenti e dunque le restituzioni dei prestiti ottenuti e che provocò il fallimento di importanti banchieri, primi fra tutti i Bardi e i Peruzzi, che tra il 1343 e il 1346 fallirono rovinosamente. E in questo loro fallimento si portarono dietro il fallimento di molte altre case bancarie fiorentine che erano impegnate direttamente o indirettamente tramite appunto Bardi e Peruzzi con la corona inglese, ma anche il fallimento di piccoli operatori che avevano dato i loro denari ai banchieri e che naturalmente li avevano perduti. Fu un evento drammatico, tanto è vero che Giovanni Villani, forse il più grande storico del tempo, della città naturalmente, lo definì come la ruina della cristianità. Ed è vero che dal punto di vista finanziario quell'evento fu drammatico, però da quell'evento si sviluppò un nuovo modo molto più moderno di organizzazione aziendale, perché le aziende dei Bardi e dei Peruzzi erano delle aziende giuridicamente indivise, quindi il fallimento di una compagnia, cioè di una delle società, si portava dietro il fallimento di tutto il complesso aziendale, come d'altra parte accade. Allora gli operatori economici, sempre molto pragmatici, in modo particolare quelli toscani, per evitare che questo si ripetesse, si inventarono una nuova forma di organizzazione aziendale. Quella forma di organizzazione aziendale che Melis chiamò sistema di aziende e che altro non è che la holding company, quindi un sistema organizzativo davvero molto moderno. E con questo diciamo che potrei fermarmi per quanto riguarda la prima finalità di questo volume, quindi la ricostruzione degli andamenti del debito pubblico in questo lungo periodo. Sono chiaramente due momenti particolarmente importanti, ma come potete immaginare ce ne sono anche molti altri. Passiamo quindi alla seconda finalità, ossia le forme di indebitamento del passato che possono essere considerate più simili a quelle contemporanee. e per parlare appunto di debito pubblico o simile a quello contemporaneo bisogna andare nella Leone del XVI secolo, dove la corona emetteva prestiti su base volontaria tramite funzionari che vendevano quote del debito a pool di banchieri e di finanziatori che erano francesi ma anche di altri paesi stranieri, soprattutto fiorentini, tedeschi e svizzeri. Il governo tramite i suoi ufficiali cedeva a certificati cartacei che rappresentavano il debito e che poi pool di banchieri immettevano sul mercato secondario e venivano cioè distribuiti e venduti a operatori magari più piccoli ma anche a privati. E queste quote di debito erano rappresentate da degli specifici certificati che si chiamavano tiletti. Tiletti che si diffusero rapidamente un po' ovunque, quindi c'è una diffusione molto ampia di queste forme, di questa forma appunto di debito pubblico. Si trovano tiletti del debito pubblico francese a Firenze, a Venezia, ma pensate addirittura nel patrimonio di un mercante fiorentino che nel 1530 aveva deciso di lasciare Firenze per andare in Andalusia e tentare l'avventura americana fino a Santo Domingo, perfino appunto nel suo patrimonio si trovano titoli del debito pubblico francese. Quindi l'elemento che considero appunto discriminante nell'avvicinare le forme del debito pubblico del passato con quello contemporaneo è sicuramente la volontarietà della sottoscrizione, quindi non prestiti forzosi, non prestiti obbligatori a cui la popolazione era obbligata a rispondere, ma la volontarietà della sottoscrizione. E poi la terza questione, perché i governi si indebitavano e dunque come utilizzavano il denaro così raccolto? Beh, possiamo dire che i motivi dell'indebitamento nel lungo periodo erano abbastanza simili e ovviamente legati alle necessità dei governi. I signori feudali e liberi comuni durante il Medioevo svolgevano azioni politiche prevalentemente condizionate da esigenze di prestigio e di espansione territoriale, quindi queste erano le motivazioni per cui soprattutto chiedevano denaro a prestito. Nella prima età moderna si aggiungono anche le spese per i nuovi apparati burocratici e di organizzazione dello Stato moderno. Nascono appunto i primi Stati moderni, nascono le prime capitali che naturalmente hanno bisogno anche di una struttura urbanistica adeguata per accogliere la corte, per accogliere la burocrazia e le capitali vanno poi anche collegate al resto del paese, quindi stimoli di spesa per finanziare le infrastrutture viarie, per esempio. Quindi altre motivazioni che tendono ad ampliare la spesa pubblica che spesso viene finanziata attraverso il debito. Nell'età contemporanea naturalmente le motivazioni sono ancora il finanziamento della guerra, basta pensare alla prima guerra mondiale e poi si comincia a risentire gradualmente del bisogno di consenso tra la popolazione, quindi di un certo condizionamento della popolazione stessa. D'altra parte, indebitarsi è più facile che aumentare la pressione fiscale. Comunque, ciò detto, in buona sostanza, la guerra fu per lungo tempo il principale motivo dell'indebitamento. E allora potremmo chiederci era solo debito cattivo senza aspetti positivi? Oggi in effetti il debito pubblico è visto negativamente, soprattutto nella pubblicistica viene spesso descritto come una montagna pronta a crollare con inenarrabili danni. Certamente è così quando la sua dimensione è eccessiva. In realtà, nel lungo periodo che ho esaminato, mi sembra che spesso abbia svolto una funzione propulsiva in vari settori della vita. Ha consentito di migliorare le condizioni materiali e di sicurezza della popolazione. Il denaro preso a prestito è servito a costruire infrastrutture viarie, manifatturiere, poi industriali, sanitarie, a finanziare i conflitti, sì, ma anche a garantire l'alimentazione e il sostegno dei segmenti più fragili della popolazione, ad ampliare il patrimonio artistico, a concedere qualche svago a chi non avrebbe potuto permetterselo. Tanti esempi potremmo fare e tanti esempi ci sono nel volume. Mi vengono in mente le opere a Roma di Sisto IV, di Giulio II, di Leone X, che sostennero il rinnovamento della città con mirabili opere artistiche. Il denaro preso a prestito servì anche per il rifornimento di grano alla fabbrica di San Pietro, al miglioramento degli acquedotti, perfino al riordino degli archivi provinciali. Ma anche a Milano, salendo a nord, nella Milano del Trecento il debito servì a dare centralità alla città, a costruire canali, a sistemare la viabilità. Nel 1576 servì per fronteggiare le difficoltà della peste. Negli anni successivi servì per rendere navigabile l'Adda. E poi ci sono anche aspetti di prestigio e di esibizione del lusso. Penso al denaro preso a prestito per i matrimoni dei visconti e dei loro figli, spese volutuarie, sicuramente, però erano spese che attivavano un indotto economico rilevante. Ma anche a Napoli, ma anche per Napoli potremmo fare molti esempi, tanto per il periodo aragonese come per il periodo degli Asburgo. Alfonso di Aragona chiamò architetti ad abbellire la città, agì bonificando le paludi circostanti, facendo lavori sul lago di Agnano che è ben utilizzato per la macerazione del lino e della canapa che erano materie prime indispensabili alle attività manifatturiere della regione. e per l'età degli Asburgo basta pensare agli interventi del vicere Pedro Alvarez de Toledo e Zuniga la cui azione mutò un po' il volto della città con la sistemazione di Castel Santelmo, con gli interventi in centro per la pavimentazione di quella che ancora oggi si chiama per l'appunto via Toledo. e se questo accadeva nella penisola italiana molti altri esempi potremmo farli anche per i paesi stranieri per esempio in Inghilterra i lucchesi Ricciardi acquistavano la pregiata lana inglese la migliore del tempo quella a fibra lunga e vendevano panni lana e i loro denari rimpinguavano i forzieri della monarchia ed è assai probabile che negli anni ottanta del tredicesimo secolo quei denari siano serviti alla costruzione di numerosi manieri del Galles fu una vera e propria impresa che costò almeno centomila sterline furono lavori grandiosi che impegnarono quasi tremila uomini che arrivavano da tutte le parti dell'isola creando un forte indotto per l'economia locale ma anche nel regno di Valenza ci si indebitava tanto per fare un esempio spagnolo per sostenere i servizi alle comunità come le opere pubbliche le infrastrutture idrauliche i rifornimenti frumentali le festività le elemosine Gandia merita una brevissima riflessione infatti lo studio dei suoi bilanci che sono distribuiti durante il quattrocento mostra che spesso il cinquanta per cento delle entrate comprese quelle derivanti dal debito finanziarono le mura i ponti le strade la costruzione di un ospedale la chiesa di Santa Maria ma l'attenzione del governo fu anche rivolta alla gran festa di Gandia o alle largizioni per Pasqua e Natale fatte per la popolazione più bisognosa quindi un uso positivo per la salute del corpo dell'anima ma anche dello spirito il volume si conclude poi con le vicende che attraversò il debito pubblico nell'Italia post unitaria centosessanta anni di storia italiana che sono profondamente diversi dal punto di vista politico istituzionale sotto il profilo economico sociale e culturale ho provato a ricostruire appunto le vicende del del debito secondo tre grandi intervalli temporali l'Italia liberale sino allo scoppio della grande guerra il periodo che va dal 1915 alla caduta del fascismo e infine quello dell'Italia repubblicana nel primo periodo è indubbio che il nuovo regno dovette gestire con grande fatica il suo debito partendo da una significativa esposizione d'altra parte per accreditarsi all'estero dovette riconoscere i debiti di ciascuno degli stati preunitari e poi occorreva dotare il paese di tutta una serie di infrastrutture sia viarie che sanitarie che non erano presenti ovunque quindi l'esposizione del debito crebbe tanto è vero che nel 1914 il rapporto debito PIL era del 95% cioè superava il 90% quel livello che alcuni studi considerano come capace di frenare la crescita economica quindi potremmo dire che in questa prima fase l'indebitamento fu uno strumento indispensabile per formare l'Italia nella realizzazione e nel rafforzamento dello Stato nazionale dopo di allora come si può immaginare il pagamento delle operazioni belliche mise sotto ulteriore pressione le finanze del regno perché la guerra anche se non esclusivamente in buona parte fu pagata con sei prestiti nazionali emessi tra il 1914 e il 1919 durante il periodo fascista e si passa così appunto alla seconda fase è possibile individuare due diversi momenti una prima fase dei primi anni 20 novembre 25 gennaio 26 in cui le casse dello Stato beneficiarono di un temporaneo miglioramento Volpi di Misurata che era appunto il ministro delle finanze ottenne di alleggerire il debito di guerra con prestiti e sconti dagli Stati Uniti e dall'Inghilterra il secondo periodo quindi fine anni 20 e gli anni 30 vedeva ormai alle porte la grande depressione seguita dal decennio di guerra iniziato con l'invasione dell'Etiopia ciò aumentò gravemente le difficoltà di bilancio infatti tra il 1940 e il 1943 il rapporto debito PIL passò dall'85 al 112 per cento c'è poi in mezzo naturalmente la seconda guerra mondiale e di nuovo un implementazione dell'esposizione per arrivare poi al secondo dopoguerra quando appunto l'anno compreso tra il 47 e il 48 fu quello che fece registrare l'esposizione più elevata molti furono gli interventi naturalmente il famoso viaggio del 1947 di Alcide De Gasperi che andò negli Stati Uniti ed ottenne un prestito di 125 miliardi di lire denaro che naturalmente venne utilizzato per la ricostruzione per le opere pubbliche per la rete ferroviaria un certo cambiamento si cominciò a verificare alla fine degli anni sessanta finanziamenti di un cambio dello stato assistenziale e sociale che richiese grandi finanziamenti quindi le politiche degli anni settanta politiche finanziarie erano strettamente correlate al consenso sociale come ho già accennato è molto più semplice indebitarsi che alzare la pressione fiscale gli aumenti degli stipendi le spese correnti e di funzionamento furono pagate con il debito e nell'ottantuno il governatore della Banca d'Italia registrò che il debito in soli dodici mesi era aumentato del 20% il rapporto con il PIL era addirittura del 104% oltre al fatto che i debiti erano di breve durata e questo costituiva un altro problema quindi gli esecutivi non avevano altra soluzione che quella di accettare che il deficit oltrepassasse i limiti della crescita economica economica e proprio negli anni ottanta praticamente a seguito del fatto che il costo degli interessi era aumentato e superò la crescita del PIL i governi furono sostanzialmente obbligati ad accettare il fatto che il debito ereditato non comportasse responsabilità dei governi stessi limitava solo le loro possibilità di scelta fu come se fossimo tornati indietro ai tempi in cui i sovrani non si preoccupavano dell'esposizione che ereditavano si arriva così al 92 al trattato di Maastricht che pose limiti all'inflazione al disavanzo pubblico le cose cominciarono a migliorare un miglioramento che questa volta fu raggiunto aumentando chiaramente il prelievo fiscale infatti tra il 1989 e il 1997 salì dal 39 al 44,8% e poi naturalmente il nuovo millennio che si è aperto con anni difficili sia dal punto di vista economico-finanziario ma anche politico-sociale il dramma delle torri gemelle la bolla immobiliare tra il 2007 e il 2008 il fallimento di numerose banche di affari e poi naturalmente la pandemia e come ben sappiamo l'Europa oltre ad alcuni contributi ha messo a disposizione i prestiti agevolati ai governi il compito di spendere bene quei denari voglio segnalare come nel volume si trovino una decina di schede sono curiosità brevissimi racconti o brani di fonti archivistiche che rendono la lettura credo più stimolante così sulla parte del debito dedicata a Firenze si trova una scheda che racconta come alla mano Rinuccini e Piero Parenti grandi personaggi del tempo accusassero Lorenzo il Magnifico di avere indebitamente prelevato dalle casse del debito 200.000 fiorini per agevolare la nomina cardinale del figlio tredicenne Giovanni che nel 1513 divenne papa con il nome di Leone X in un'altra scheda invece si racconta di un altro evento molto curioso quello delle sorelle Notaras esponenti di un'importante famiglia bizantina che fatte prigioniere da Maometto II dopo la presa di Costantinopoli furono appunto riscattate per trovare le somme necessarie al riscatto furono ceduti sul mercato secondario titoli del debito pubblico veneziano e genovese che facevano parte appunto del patrimonio di famiglia per concludere cito la scheda che spiega le tecniche di marketing adottate dal Regno d'Italia per stimolare la sottoscrizione dei prestiti emessi durante la Grande Guerra e proprio allora si utilizzarono i famosi manifesti di Mauro Mozzan l'affiscista italiano di guerra più conosciuto chiudo con le parole del volume la storia insegna come il deficit spending possa offrire dei vantaggi tutto dipende dalla destinazione del denaro il suo uso sbagliato provoca incertezze finanziarie distorsioni economiche ma la storia ci indica anche che un uso corretto può essere positivo e dunque la ricchezza del debito pubblico è uno simoro solo apparente questa è la conclusione del volume e questa è appunto la mia conclusione diciamo che è una storia che continua che si lega una volta messa la prima pietra poi è un edificio che è andato sviluppando tecniche modalità forme di indebitamento sempre nuove e diverse ma alla base poi ci sono sempre gli uomini che decidono le azioni da fare con i soldi del debito pubblico quindi segue anche l'andamento della politica non solo quello dell'economia ovviamente certamente sono appunto le liaisons dangereuses i legami pericolosi che intercorrono tra il mondo della finanza e il mondo della politica è un binomio che è sempre stato davvero molto condizionante magari si ha l'impressione che nella contemporaneità lo sia di più ma in realtà lo è stato molto anche nel passato perché è chiaro che prestare al sovrano e mi riferisco appunto a tutta l'età sostanzialmente preindustriale significava essere a contatto con le decisioni politiche significava instaurare un rapporto privilegiato con la politica e avere quindi informazioni di prima mano e la notizia dice Brodell ma lo dicevano tutti gli operatori economici del tempo è merce di lusso perché consente di sapere prima degli altri quelle che saranno le decisioni economiche politiche finanziarie e avere la notizia in anticipo rispetto agli altri significa intraprendere delle strategie economiche di successo ed è chiaro quindi che questo condizionamento è un condizionamento forte per gli operatori economici e i mercanti banchieri del tempo che sono disposti a correre il rischio del prestito perché erano consapevoli che molto spesso i sovrani non restituivano i denari prestati ma appunto a fronte di questo avevano un vantaggio di posizione e al tempo stesso per i sovrani era indispensabile il denaro per tutta una serie di motivazioni che a cui ho già accennato quindi un binomio inscindibile e molto pericoloso e quindi bisogna comprare questo libro per capire anche cosa stiamo vivendo al giorno d'oggi e io ne ricordo il titolo che è la ricchezza del debito pubblico secoli dodicesimo ventunesimo appena pubblicato dal mulino tra l'altro parlando di economia a un prezzo decisamente accessibile perché sono 208 pagine per 17 euro e a scriverlo è Angela Orlandi che abbiamo avuto il piacere di avere nostra ospite che io ringrazio tantissimo per aver accettato il nostro invito mentre a voi utenti dei nostri video ricordo di seguirci sul sito che è www.italiamedievale.org dove trovate anche tutte le nostre videopresentazioni grazie ancora professoressa Orlandi grazie a voi 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 grazie a voi